Alla fine, quello che non doveva accadere è accaduto. Doloroso e incredibile addio quello della DLF Nista Rugby che è stata costretta a rinunciare al campionato Signores Maschile di Serie C poiché a Caltanissetta, vista la perdurante chiusura del Tomaselli, non c'è un campo omologato per il rugby. Dopo ben 15 stagioni, la società a punto di riferimento del rugby del centro Sicilia, preseduta da Giuseppe Locelso, non prenderà parte al campionato Signores Maschile. Un colpo devastante per la società Nissena che per adesso prosegue gli allenamenti del settore giovanile del mini rugby presso il complesso sportivo Michele Amari di Portella della Ginestra. Si susseguono le riunioni in seno alla società, anche perché il problema del campo potrebbe riproporsi a breve per i tornei giovanili e per la senior femminile. Tutto questo mentre lo stadio Nisseno Marco Tomaselli resta chiuso perché l'amministrazione ha deciso di apportare con decisione unilaterale un cambiamento al capitolato d'appalto che prevedeva l'intarsio delle linee indelebili per rugby e calcio. L'amministrazione per poter modificare il capitolato necessita di una deroga che può concedere solo sport e salute, che ha sborsato il finanziamento e che necessita dell'accordo congiunto della Federazione Italiana Rugby e della FIGC. I lavori non completati non consentono il collaudo.